musica rieccoci in questo nuovo video in compagnia sempre del nostro Unix 3 qualche utente ci ha chiesto di farvi vedere come installare la Recovery Carly Touch appunto su questo smartphone Lumi X3 l'installazione è abbastanza semplice come vi ho spiegato nell'articolo in proposito bisogna installare l'applicazione Mobile Angle Tools aprirla e cliccare su Recovery Update qui all'interno troverete la Recovery di questo smartphone che trovate sempre sull'articolo in proposito la scaricatela e inserite nel telefono e una volta aperto il programma la troverete qui su Recovery Update sul programma Mobile Angle Tools basta cliccare sulla Recovery vi chiederà se siete sicuri di flashare la Recovery poi date ok aspettate qualche secondo la Recovery verrà inserita ecco fatto ora vi chiederà di riavviare in Recovery Mode poi date ok aspettate un po' classica accensione cinese della ROM originale ed ecco qui siamo entrati nella Car Live Touch Recovery 2.5 funzionante come potete vedere quindi l'installazione è abbastanza semplice per riavviarlo dovete stare a dare Reboot Recovery per ritornare al Recovery oppure date a Power Off per spegnerlo e poi lo avviate normalmente quindi l'installazione è abbastanza semplice se vi capitano problemi del tipo non riuscite a farlo entrare in Recovery potrebbe essere un errore di dati ad esempio del telefono per risolvere potreste ad esempio entrare nella Recovery originale e fare dei wipe wipe cache wipe del big cache che dovrebbero essere presenti nella Recovery originale di sistema oppure dare anche un ripristino di fabbrica data di fabbrica delle impostazioni del telefono sulla voce backup e ripristino o del meno impostazioni questo teoricamente dovrebbe risolvere questo problema se avete altre domande dubbi qua sotto nei commenti qui da Tux1 arrivederci